Ha 22 anni, mentre segue i corsi di recitazione tenuti da Elsa Merlini. Partecipa a un concorso per annunciatrice radiofonica indetto dalla RAI. Classificandosi al secondo posto, rinuncia ad entrare alla radio. Dopo il saggio di diploma tenuto, ed intraprende la carriera teatrale sin dalla stagione 1948-1949. Nella compagnia di Laura Carli. Debuttando a Forlì, nello spettacolo caldo e freddo di Fernard Kromelink. Sul palcoscenico recita ininterrottamente sino ai giorni nostri. Diventando una delle più apprezzate attrici del genere brillante. Ma dimostrandosi anche di ottimo spessore drammatico.